ricchezza fama potere vi è stato un uomo che ha conquistato tutto questo gol di roger il re dei pirati benvenuti da one piece massimi esperti come avete capito il tema di oggi è gol di roger come sappiamo roger era il re dei pirati infatti fu l'unico insieme alla sua ciurma ad arrivare all'ultima isola segnata cioè lo hard star poi è arrivato alla vera ultima isola quella del tesoro del one piece laugtel rafter come preferite ottenendo così il nome direi dei pirati ma questo non era dovuto solo affatto appunto di essere arrivato qui e di aver esplorato tutto il nuovo mondo per intero ma anche per via della sua enorme potenza che gli permise di venire considerato come il più grande pirata di tutti i tempi cosa in attesa di rufi infatti roger aveva sulla sua testa una taglia immensa oltre 5 miliardi e mezzo la più alta mai appartenuta ad un pirata fino ad oggi naturalmente come si evince dal manga pochissime persone al mondo erano in grado di tenergli testa in combattimento tra cui vi erano l'eroe della marina monke di garp il grandissimo eduard newgate barba bianca famoso per essere considerato l'uomo più forte del mondo poi naturalmente vi erano anche g bec o xe bec e chic leone dorato ma oda non li ha mai caratterizzati abbastanza per poter parlare dettagliatamente al momento magari più avanti nella narrazione li riprenderemo con nuove info nuove battaglie nuove informazioni sui loro poteri in modo adeguato per g bec però vi rimando al nostro video su teach ulteriori elementi possiamo ricavarli dal capitolo 957 di one piece con il rimando alla battaglia di gold valley sengoku ci racconta che secondo i rapporti di cronaca nell'incidente di gold valley di 38 anni fa i pirati rox furono distrutti dal vice ammiraglio garp e per questo che viene soprannominato l'eroe della marina anche se a lui non piace questo titolo e quella storia ma ciò che realmente è accaduto è stato altro al fine di proteggere i draghi celesti e i loro schiavi a god valley garp e roger hanno combattuto insieme per sconfiggere e annientare i pirati rox quindi non è vera la storia che soltanto garp abbia sconfitto i rox ma ha dovuto allearsi al futuro re dei pirati spettacolare che abbiano combattuto fianco a fianco contro tale ciurma fare fronte comune contro un nemico che probabilmente da lì a poco avrebbe dominato e forse distrutto il mondo rox voleva diventare il re del mondo infatti da quell'episodio si evince la straordinaria potenza di garp e ovviamente di roger che hanno dovuto vedersela tra i tanti con eduardo newgate baffi bianchi kai do e big mamma anche se questi ultimi due non erano forti come adesso e soprattutto con rox di gbeck definito uno dei più grandi avversari di roger e suo acerrimo nemico andando ad analizzare le varie abilità di roger ricordiamo che era in grado di comprendere a meno in parte cioè in modo grossolano il significato dei pony cliff come grazie alla sua capacità quasi unica di sentire la voce di tutte le cose infatti come sappiamo possedeva la capacità di sentire anche la voce dei re dei mare e di zunisha anche se però non poteva comunicare con loro inoltre per quanto concerne l'ambizione cioè gli hachi roger aveva una grande padronanza dell'ambizione dell'armatura che era sicuramente ai massimi livelli possiamo fare un confronto sicuramente con il livello che ha raggiunto adesso rufi se non addirittura più alto se mai fosse possibile naturalmente lo mostra anche nello scontro con newgate ricordiamoci tutti quanti la scena epica in cui la forza che si genera dall'impatto tra l'acchi di gol di roger e di newgate non permise alle loro lame di toccarsi creando quasi una frattura spazio temporale naturalmente scherziamo e spazzando via tutti coloro che erano nelle vicinanze ricordiamoci anche che roger fu in grado di far volare via un samurai del calibro di kozuki oden grandissimo spadeccino una leggenda con un solo colpo che definì kamusari e con una facilità disarmante ma ne sappiamo tutti bene quanto oden fosse potente poteva inoltre utilizzare sicuramente questa un'illazione ma la diamo per scontata l'ambizione della percezione ed obbligo credere che potesse vedere nel futuro come fa luffy inoltre sapeva anche bene utilizzare l'ambizione del re conquistatore chi meglio del re dei pirati poteva usare tale ambizione inoltre roger in combattimento utilizzava una spada ed era anche abilissimo nell'utilizzarla come si è visto negli scontri con oden e con barba bianca come abbiamo detto inizialmente la marina non lo impensieriva e gli unici che nominava sempre erano garp e sengoku questo ci fa capire quanto fosse incredibile roger ma quando fossero incredibili appunto anche due marines inoltre roger essendo arrivato all'ultima isola la hog tail conosceva anche tutta la storia tutta la verità sui cento anni del grande vuoto sulle armi ancestrali e sulla volontà della d naturalmente tutto ciò che concerne il livello combattivo del re dei pirati è anche avallato dal fatto che roger da noi visto era malato gli mancava l'ultimo anno di vita e sopravvisse ancora un po solo grazie a crocus vero medico questo ci lascia pensare che fino ad oggi lui fosse il più forte di tutti i tempi insieme naturalmente a new gate l'uomo forte del mondo magari a fine manga luffy li eguaglierà e noi lo speriamo piccole curiosità su roger innanzitutto dopo l'esecuzione del re dei pirati a rogue town iniziò a piovere durante la fuga di rufi dalla medesima città iniziò a piovere ugualmente ora vediamo i veri pirati innanzitutto prima di morire il pirata olivier levasseer ha lasciato un enigma dal suo patibolo dove poi venne ucciso a tutte le persone sottostanti e chiunque l'avesse decifrato sarebbe stato in grado di trovare il suo grandissimo tesoro magari odace ispirato a tale pirata per il discorso che fece roger inoltre un altro pirata veramente esistito a cui potrebbe essersi ispirato è woods rogers adesso passiamo all'illazione finale quella sulla frase condivisa da rufi e da roger qual è la frase che li accomuna qual è la frase detta da un bambino rufi in presenza di esse sapo nel capitolo 585 che è la stessa che roger dice a new gate a oden nel capitolo 966 ovviamente non si può trattare della tipica frase che dice sempre rufi diventerò il re dei pirati questo perché l'epiteto re dei pirati fu attribuito a roger successivamente all'approdo alla hog tale e quando lui la disse a new gate a oden tale frase non esisteva ancora tale dicitura così come non esisteva ancora il nome del grande tesoro che fu chiamato poi successivamente one piece quindi possiamo provare a vedere quale potrebbe essere tale frase lasciando un ventaglio di opzioni a seconda un po delle traduzioni che dovrebbero dovrebbero essere più o meno simili abbiamo ed io sarò o io diventerò l'uomo più libero del mondo io diventerò una leggenda passerò alla storia io diventerò immortale ricordiamoci roger che disse io non morirò nel senso della volontà quindi una cosa simbolica metaforica ricordiamoci ancora che deve essere un pensiero condiviso da un bambino quindi una cosa significativa piena di simbolicimi ma altrettanto semplice naturalmente il vivere in eterno è inteso come l'essere ricordato nel tempo lasciare un segno nella vita delle persone in modo indelebile naturalmente tutto ciò è legato anche e soprattutto alla predestinazione della volontà della di che viene trasmessa di volta in volta joy boy roger e infine rufi il futuro re dei pirati naturalmente la traduzione era per ciò che concerne io sarò piuttosto che io diventerò ma tutte le opzioni date tutto il ventaglio dato è stato il azionato da noi detto ciò vi rimando anche al video sul rufi e sulla volontà della di dove ci siamo già espressi e vi ricordo come sempre tutti i nostri social le due pagine facebook una su one piece e una su tutti gli altri manga anime il nostro gruppo facebook il nostro canale telegram il nostro account instagram naturalmente qui su youtube iscrivetevi attivate la campanella e poi siamo passati anche sul sito viola vi aspettiamo anche un saluto dai massimi esperti di one piece in italia e anche oggi abbiamo fatto il nostro lavoro cioè abbiamo portato solo la verità ora aspetto un vostro commento anche da sfogliatori o da sfogliatrici ma no da sfogliatelle infine se come noi ritenete roger il più forte del manga fino ad oggi scrivete hashtag roger